La sanità della pedemontana entra nella battaglia politica, il PD attacca sui temi dell'Ulss7. La Lega fa quadrato attorno ad Elena Pavani in un momento critico per la vita politica cittadina. La rosatesa Elena Campagnolo a Senigallia, devastata dall'alluvione, dice è una catastrofe. Una tragedia che tocca due famiglie, così la sindaca Martini ricorda il concittadino travolto dal treno. Pieve del grappa, la polizia locale sequestra 23 piante di cannabis, denuncia 5 giovani. Due pitbull escono da una casa e ammazzano un cane a guinzaglio sotto gli occhi della padroncina. L'anziana si sente male durante una passeggiata in Marcesina e muore davanti ai parenti. Cerca di entrare in pedemontana con il monopattino ma viene fermato dalla polizia locale. Sorpreso a sotterrare calcinacci, denunciato dai carabinieri un imprenditore. Edizione serale di Bastano Tg, buonasera a tutti voi telespettatori. In apertura di telegiornale parliamo dell'ennesima segnalazione di disorganizzazione nell'Ulsset. Parliamo di 11 mesi per una visita fissata nel 2021. I dettagli. 11 mesi per una visita oculistica, chiesta ad agosto fissata a luglio 2023, con buona pace di chi annuncia liste d'attesa quasi azzerate. Se prima i problemi erano tanti, causa disorganizzazione nell'azienda sanitaria del DG Carlo Bramezza, adesso ai disagi si è aggiunto anche il disappunto di chi vive sulla propria pelle le lungaggini della sanità e si sente dire dai vertici dell'ospedale che va tutto bene. Sentite cosa ci racconta questa paziente di Bastano che ha chiesto una visita oculistica e si è sentita rispondere così dal CUP. Mi ha detto che sarebbe stato disponibile a Mara Ostica, ma la prima disponibilità il 24 luglio del 2023 e che non potevano rispettare la tempistica dell'impegnativa. Ma come? E le priorità e il supporto ai pazienti e le attese ridotte quasi a zero? I cittadini si chiedono come possa combaciare questa realtà con quella presentata dall'Ulsset in un recente comunicato stampa. Una situazione che mette in imbarazzo anche chi lavora in ospedale. Sentite cosa ha detto un'operatrice del CUP alla signora che provava a farsi dare un appuntamento. Ho parlato anche con l'operatrice del telefono e lei mi diceva guarda io mi vergogno di proporle questa data, però purtroppo... Quindi loro, poveracci, si trovano a fare un lavoro in questo momento... Cioè, chissà parole che prenderanno tutto il giorno, insomma. Mi metto nei panni di chi magari ha una patologia o comunque dei sintomi, qualcosa che deve verificare presto, ok? E si vede impossibilitato a far la visita. Alla luce dei fatti, la signora sottolinea come sia importante continuare a segnalare i disagi, anche se... Visto che c'è tanta gente, è meglio segnalare sempre queste cose, insomma... Perché, insomma, si fa numero, perlomeno, anche se poi ho visto che nessuno... Sembrerebbe che ha nessun interesse e quindi... Chi di dovere intendo, eh? E come sempre i nostri microfoni restano a disposizione di tutti. E la sanità della Pedemontana entra nella battaglia politica e il PD attacca sui temi dell'Ulse 7. La sanità piomba nella campagna elettorale e l'Ulse 7 entra a pieno diritto fra i temi più caldi del momento. Apre le danze il candidato del PD, Enrico Letta, che mette i puntini sulle I riguardo alle responsabilità della gestione della sanità. Chiediamo alla Regione Veneto una attenzione molto maggiore rispetto ai territori, che sono i territori più remoti e più lontani, perché il vero guaio di questi tempi è stato, ed è veramente, la questione dei servizi lontani dai territori. Crediamo che questo sia un punto essenziale. Letta, presente a Bassano per una visita alla Baxi e in Val Brenta per parlare della viabilità della Val Sugana, punta il dito anche sulla volontà politica di chi vede nella sanità prima i bilanci e poi i pazienti. Proprio quello che molti cittadini contestano ai vertici dell'Ulse 7. Il nostro programma, il nostro progetto è un progetto che riparte dall'esigenza dei fruitori di sanità innanzitutto e quindi da un investimento unico, netto e chiaro sulla sanità pubblica. Noi vogliamo togliere quel tetto alla spesa del personale sanitario che dal 2004, fu messo da Tremonti all'epoca, che era messo il tetto alla spesa del personale sanitario, meno un per cento ogni anno. Purtroppo era una norma che fu messa, che non è stato possibile togliere in tutti questi anni, ma con la pandemia si è capito che invece quella norma va tolta. Eppure sui medici di famiglia il PD non le manda a dire a chi gestisce la sanità della pedemontana, dove tante volte abbiamo raccontato i disagi di chi si è trovato senza un dottore o con un medico d'ufficio lontano, troppo lontano per anziani e persone in difficoltà. Ecco la proposta. Un forte incentivo nella medicina di territorio e in particolare nei medici di famiglia, che sono stati durante la pandemia, si è visto quanta importanza hanno, ma veniamo da una lunga fase nella quale sono stati assolutamente marginalizzati e abistrattati. E il concerto di Andrea Boccelli a Marossi, che è stato un evento di rilevanza mondiale e conferma una volta in più la leadership della città murata in un territorio che vede Bassano sempre meno centrale. Il concerto evento di Andrea Boccelli a Marossi ha avuto addirittura rilevanza mondiale, con ospiti decisamente VIP che sono arrivati dall'estero per godersi lo spettacolo. Presenti anche, secondo i ben informati, ricchissime personalità arabe in un profluvio di elicotteri e limousine. La cittadina murata arrivava al clou delle manifestazioni estive portando in dote una partita a scacchi da tutto esaurito, con alberghi strapieni e presenze turistiche in grado di rivaleggiare con i dati pre-Covid. Abbiamo avuto il picco massimo di quello che vuol dire essere internazionali. La nostra città è stata letteralmente invasa da turisti stranieri, si sono registrati l'oltre 65% di biglietti venduti a persone che arrivano da paesi extra-Europa. Quindi la città è stata letteralmente invasa da turisti canadesi, da sudafricani, da Australia, da Sud America, Nord America, Russia e tutti gli altri paesi europei. Veramente eravamo una babele di persone. Semarosti Carì dell'altopiano si bea dei 150.000 visitatori che sono accorsi a settembre per il ritorno di Made in Malga, per non parlare dell'onda lunga della dunata triveneta degli Alpini che a luglio ha riportato Asiago ed intorni al centro dell'attenzione nazionale. Insomma, un'estate da incorniciare per il territorio che ormai pare destinato ad avere una nuova gerarchia. Bassano sembra scivolare nella classifica nonostante l'appeal e il gran lavoro fatto dalle categorie economiche per tenere alta la bandiera giallorossa. E mentre in Malostica si coccola il nuovo ruolo di gioiello della corona con l'altopiano verde-smeraldo a far da prezioso contorno, a Bassano i temi sono decisamente diversi. La faccenda infatti non è solamente turistica e a voler leggere fra le righe la differenza si nota anche nella vicenda quasi parallela del teatro Politeama di Marostica e dell'Astra di Bassano. Nel capoluogo, che secondo molti è destinato a essere un ex-capoluogo, i temi caldi vanno dalle dimissioni del vice-sindaco Marin all'estromissione del sindaco Elena Pavan dal direttivo della Lega Cittadina e dal pasticciaccio di San Lazzaro a quello di Santa Chiara fino alla scuola di Sant'Eusebio i bassanesi non sanno più che santi chiamare. E la Lega fa quadrato attorno al sindaco Elena Pavan in un momento molto delicato per la vita amministrativa e politica cittadina. Andrea Diero, un clima politico rovente in città, le opposizioni attaccano il primo cittadino per la situazione che si è venuta a creare ma la squadra si è messa attorno a Elena Pavan. Assolutamente, la squadra tiene. Nei prossimi giorni verrà anche definito l'assessore che sostituirà l'ex vice-sindaco Marin quindi si tira diritto tranquilli fino al 2024. Su queste polemiche sulla perdita di potere del sindaco sul fatto che sia stata abbandonata dal vice-sindaco qual è la posizione del partito? Il partito è tranquillissimo, siamo andati tra l'altro anche a rinnovo di sezione con una sezione rinnovata, siamo tutti ovviamente attorno ad Elena Pavan e si tira diritto appunto fino al 2024. Una spiegazione sul fatto che il sindaco non figura nel direttivo in questo momento? Ma è stata una scelta condivisa, capisco le minoranze che giustamente fanno la loro parte, devono cavalcare ogni onda che gli si presta è una cosa concordata assolutamente per far crescere altri ragazzi in sezione di diritto Elena Pavan così come il vice-presidente Finco possono partecipare ai direttivi quindi nessuna esclusione. E a Senigallia, colpita dall'alluvione di ieri, vive da quattro anni la vicentina di Rosà Elena Campagnolo e nella città marchigiana è assessore all'ambiente e così ci racconta la situazione come ora. La situazione è abbastanza catastrofica. Comincia così il racconto di Elena Campagnolo, originaria di Rosà che da quattro anni vive a Senigallia dove è assessore comunale all'ambiente. I quasi 700 mm di pioggia caduti in poche ore, pari alle precipitazioni di 6-8 mesi hanno gonfiato il letto del fiume Misa, poi traccimato. L'asine ha rotto prima però è arrivato molto molto impiettuoso. Il nostro è un fiume a carattere torrentissimo per cui è complicato da spiegare per questo perché uno non si aspetta una piena fino al minuto prima e al minuto dopo effettivamente il fiume può traccimare. Era imprevedibile l'evento meteorologico che ha sconvolto la cittadina marchigiana già colpita da un'altra alluvione nel 2014. La conta delle vittime è ancora in corso, così anche quella dei danni materiali. Siamo in attesa più che altro degli aiuti perché abbiamo diverse criticità in questo momento di più di 100 sfollati e quindi è gente che ha perso qualunque cosa. Nelle ultime ore solo una tregua con qualche squarcio di sole ha permesso di iniziare a ripulire la città ma in arrivo un'altra allerta meteo che potrebbe aggiungere danno ad anno. Tra le altre cose eravamo ancora in stagione quindi noi qui alcuni hanno perso anche completamente gli stabilimenti balneari perché poi l'ondata di piena sostanzialmente si è riversata in mare e da lì ha avuto un'onda, quasi un'onda anomala ed è andato a distruggere tutti i diversi stabilimenti balneari della zona più centrale di Senigallia. Una tragedia che tocca due famiglie, così il sindaco Martini dopo la tragedia dell'anziano travolto da un treno mentre rincasava. Un'intera comunità sotto shock per la morte terribile di Romano Martini, l'86enne di Rossano Veneto finito sto il treno Venezia Padova mentre stava rincasando. La tragedia al passaggio a livello di via Campania Ramondi Loria proprio al confine con il comune dove l'anziano risiedeva. Giovedì pomeriggio, forse per guadagnare qualche minuto, Martini ha deciso di passare con la sua bici sotto alle sbarre che si erano appena abbassate. Da alcune testimonianze si sarebbe attardato sui binari nello stesso momento in cui il treno stava arrivando. Inutile il tentativo disperato del conducente di frenare. L'86enne è stato spazzato via dal convoglio trascinato per alcuni metri. L'identificazione del corpo solo dopo ore in quanto non aveva con sé documenti. Una vicenda che ha sconvolto anche la sindaca di Rossano Veneto, Morena Martini, che ben conosceva l'anziano e la sua famiglia. La moglie di Romano è una persona molto conosciuta all'interno della parrocchia dove presta opere di carità e d'aiuto tutte le settimane e anche il figlio Fabio è conosciuto nella comunità per l'impegno che ha profuso nel creare per esempio l'orto sinergico. Romano è una persona che vedevamo spesso in bicicletta girare per la nostra Rossano. Colpisce il modo tremendo che ha determinato la mancanza del signor Martini. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore e siamo vicini anche, è il caso di dirlo, al capotreno, al macchinista perché sono tragedie che segnano inevitabilmente la vita di due famiglie. Andiamo a Pieve del Grappa dove la polizia locale ha sequestrato 23 piante di cannabis e denunciato 5 giovani, di cui 2 minorenni. Coltivava 23 piante di canapa indiana nella veranda di un ex convento in località Fietta, Pieve del Grappa dopo essersi assicurato che nessuno sarebbe riuscito a entrare. Non ha fatto però i conti con gli agenti della polizia locale che hanno incastrato e denunciato il 19enne incensurato residenti in un comune limitrofo per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e fini di spaccio. Ma non è finita qui la notizia della piantagione illegale, pare si fosse diffusa tra i giovani tanto che gli agenti della locale hanno bloccato 4 ragazzi di cui 2 minorenni che tentavano con una mazza e un pire di porco di forzare una porta per raggiungere la droga. Denunciati per uso e possesso di strumenti atti ad offendere e violazione di proprietà privata. Fondamentale è la segnalazione da parte dei residenti. I residenti ci hanno permesso e ci hanno aiutato di capire quali fossero i movimenti di queste persone che si recavano quasi quotidianamente nella struttura abbandonata e quindi ci hanno permesso di coglierli con le mani nel sacco. Il valore della canapa che veniva coltivata? Allora il valore adesso non è quantificabile perché non è ancora stata tra virgolette raccolta. Sicuramente il valore non è basso, è alto perché le piante erano comunque conservate bene, erano state coltivate bene, quindi sul mercato avrebbero prodotto un discreto guadagno. Fa specie il fatto che tra i protagonisti di questa vicenda ci siano anche i giovanissimi, i minorenni. Questo è un fatto preoccupante, tant'è vero che come amministrazioni stiamo puntando sempre più a potenziare politiche giovanili che vadano a favorire nuovi stili di vita, buoni stili di vita. Paura oggi pomeriggio a Casson, laddove uno scuolabus non si è accorto che l'auto che lo precedeva si era fermata e così ha centrato due veicoli. Forse una distrazione all'origine dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 settembre in via Sampio X tra Bassano e Cassola. Coinvolti tre mezzi tra cui uno scuolabus per fortuna vuoto. Proprio il conducente del pulmino che procedeva in direzione ovest-est non si è accorto che l'auto che lo precedeva si era fermata per far passare sulle strisce un pedone. L'ha colpita in pieno, dall'urto lo scuolabus si è portato nella corsia opposta di marcia proprio mentre sopraggiungeva un altro veicolo. Un impatto tremendo, danni ai mezzi ma a parte qualche botta nessuno ha riportato serie ferite. Il traffico è stato rallentato per diverse ore creando pesanti disagi lungo una strada molto trafficata. E un cane è stato azzannato a morte da due pitbull nella campagna di Marossica. È metà mattina dello scorso venerdì, una ragazza sta facendo una passeggiata lungo via Caboina col suo bastardino al guinzaglio. A un certo punto sbucano due cani pitbull liberi, la ragazza prova a cambiare strada anche perché il suo animale era impaurito. Il più grande dei due pitbull però lo azzanna al collo tagliando il guinzaglio e trascinandolo in un campo vicino. A quel punto io mi sono messa a urlare e si sono fermate delle persone che stavano passandoli lì in macchina perché a piedi in quel momento non c'era nessuno e niente, non potevamo fare nulla, abbiamo provato a fermare il cane ma comunque era pericoloso anche per noi quindi non abbiamo fatto niente, abbiamo aspettato. Dopo più o meno 20 minuti il cane grande è andato via lasciando il mio cane morente a terra. Sul posto, allertata dalla stessa ragazza, la pattuglia di Marossica della polizia locale del nord-est Vicentino e i medici del servizio veterinario hanno verificato l'accaduto. Il proprietario dei due pitbull, identificato tramite il chip degli animali, li ha rimessi in sicurezza e rischia una multa per malgoverno di animali. Le indagini dovranno verificare perché i cani fossero liberi sulla strada. Appena il cane grosso è andato via dopo l'attacco, io sono subito andata dal mio cane però comunque avevo paura che l'altro cane tornasse perché io non sapevo dove era, era scomparso, poteva tornare. Sì, avevo paura. Singolare intervento di una pattuglia della polizia stradale al casello di Bassano Ovest della Pedemontana. Mancavano pochi minuti alle 9 quando una pattuglia della polizia stradale di Vicenza è intervenuta al casello di Bassano Ovest della superstrada Pedemontana Veneta. Nella corsia di missione verso il casello si era infatti introdotta una persona alla guida di un monopattino elettrico, veicolo che non può circolare su un'arteria stradale come quella. Le immagini di un nostro telespettatore di passaggio in quel momento documentano l'intervento degli agenti supportati da uno dei mezzi adibiti alla sicurezza lungo il percorso. Ennesima segnalazione di problemi per le corse di SVT. Oggi un autobus ha avuto un guasto all'altezza di Marsan fra Bassano e Marostica. I decine di studenti sono stati lasciati a piedi. Settimana da incubo per il trasporto pubblico nella Pedemontana. Dopo l'inizio balbettante dell'anno scolastico con bus pieni e studenti lasciati a piedi, oggi si è verificato un altro problema che ha interessato decine di giovani. Il bus delle 12.30 partito da Bassano verso Tiene, pieno zeppo di studenti, ha avuto un guasto alle porte alla fermata di Marsan. Il contrattempo è stato segnalato ai viaggiatori che sono stati fatti scendere. Il papà di un pendolare ci ha raccontato che ai ragazzi è stato detto di proseguire a piedi o di aspettare la corsa successiva che però era prevista solo tre quarti d'ora dopo. Molti si sono arrangiati, altri hanno aspettato il bus delle 13 passate e sono arrivati a casa con grande ritardo. E l'anno scolastico è appena iniziato. Ora vediamo altre notizie del territorio. Nella piana di Marcesina di Enego, una donna di 80 anni, ha perso la vita questa mattina a causa di un malore. L'anziana stava facendo una passeggiata quando si è sentita male. Vani e tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM. Incendio a Borso del Grappa in località Sante Eulalia. A prendere fuoco un ricovero attrezzi. Le fiamme divampate per il malfunzionamento dell'impianto elettrico hanno danneggiato la struttura in legno prima di essere domate dalle squadre dei pompieri. Nessuna persona è rimasta ferita. A Bassano arriva lunedì pomeriggio alle 18 il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la presentazione del libro Ci giudicheranno i bambini. La presentazione si terrà al Museo della Ceramica. Scoperto mentre stava sotterrando materiale di rizio di scarto in un campo di Villafranca Padovana. È stato denunciato un imprenditore edile. Un imprenditore edile è stato scoperto sul fatto dai carabinieri forestali di Cittadella mentre stava smaltendo illecitamente rifiuti speciali derivanti da demolizioni, i cosiddetti rovinacci. L'uomo è stato smascherato in una zona rurale di Villafranca Padovana. Gli inerti venivano scaricati in buche profonde quasi tre metri che venivano poi ricoperte con terreno agricolo. Su disposizione della procura i forestali hanno sequestrato un'area agricola di circa 400 metri quadrati risultata nella disponibilità dell'imprenditore che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di gestione illecita di rifiuti. Focus 21.15 ci saranno come ospiti Nicola Falconi, Sara Giaggia, Gianni Girotto, Stefano Lain, Eric Pasqualone, Chiara Peron, Alberto Stefani e Massimo Venturato. Verso la chiusura del telegiornale vediamo sms e poi previsioni del tempo di domani. Il nostro telegiornale termina qui. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.